Tritti alla meta e conquista la preda Noi arriviamo di così Grande Eppure mi sembra che io scordato francesco Eppure mi sembra che io scordato Eppure mi sembra che io scordato pranta Eppure mi sembra che io scordato ecco ecco qua arrivo hanno detto arrivo a piazzetta no? ecco ecco Forza, 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 forza! Dai, Michael, forza! Bravissimi, bravi, bravi, forza, forza, dai, bravi! Siamo in quinto, dai! Siamo in quinto, dai, bravi! Dai, Max! Ti fregato, Max! Cos'è costa? Eh? Cos'è? Cos'è costa? Ammazzia, ammazzia! Dai, vai! Dai, vai! Quando mi ha passato, ma ho fatto provare un'opera. Ho fatto un sprint per prima Ho sceso Orta Vantana Ora un panino Un grande applauso Perché ha veramente fatto una gara spettacolare Ha chiuso la gara In un'ora 44.56 Un'ora 06.39 secondi Della Eco Maratona dei Marsi Con Matt Ramini Prima edizione Winter Trail di Campo Febbinile Un'ora 33.16 In un eco trail Perini Valentina Complimenti, bravissima Radius Club Anagni Elisabetta Makoviek Mai è una La consuetudine delle nostre gare Bravissima Elisabetta Passiamo alla categoria Collabiali Registario Ilisabetta Makov商 Passiamo al com Collins Fini Un'ora 3 A presto. Grazie a tutti.